Ho 50 anni e mi sento bella. Ogni giorno scelgo Bionike Defense My Age per vivere al meglio i cambiamenti della mia pelle. Più luminosa ed elastica, come rinnovata. Defense My Age, l'alba di una nuova bellezza. Scopri la speciale promo 2 più 1 da Bionike in farmacia e su bionike.it